Sto ricaricando, sto ricaricando Ma siamo tutti, sono andati normali Non sono, non entro anche io Questa mappa è stata fatta Con tutti i pezzi di Noi, mi sono chiamati Quasi finito, le amo Quasi finito, le amo Ragazzi, venite qua, venite qua Ragazzi, ragazzi Perché se venite qua, entrano solo dalla porta Finito, le amo, finito, le amo, ricariranno Fab, vieni qua, entrano solo dalla porta, li devastiamo È ancora che entra una quantità industriale Perché ce ne entrono qua, ce ne entrono proprio qui Se io non metto i tuoi, li devastiamo Non andare sulle scuole, tirati No, no, Fab, vieni qua, vieni qua, Fab, Fab, Fab Vieni qua, dai Uccidenteli L'agge, ti tirano la caccia Qui tenete in alto, lui Il volo, il volo, è stato attraversato dall'oggio E sta qui E sta qui Ahhh Oh, mo puoi andare sulle scuole Super G4 Non si sa mai da lui come riesce a parte Non si sa mai da lui come riesce a parte Non si sa mai da lui come riesce a parte Non si sa mai da lui come è Ma non si sa mai da lui come riesce a parte Eee, sapete, mi devo riterimentare Tu non le ha le sue, che si stavano tirando male Ma non si è vincente Ma non si è vincente Help Eh, va bene Ehi, hai visto? No, 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 no 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 ci puoi aspettare ti posso non essere mi hanno tolto mille punti perché sono morto papà hai visto le scale e quella è la penalizzazione dai si sta la spingere l'ho curato mi hanno avvicinato bomba 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 vai prendete prendo io vai la curato si vado appena sei alzato c'è la forma di progettura ragazzi per favore aspettate fatemi prendere le amo prendine ma poi vieni niente e io compro ma non state tutti in piedi comunque perchè sennò non ti riesci a sparare ho comprato di nuovo eh si lo so però è meglio che stiamo è meglio che stiamo tutti là eh va bene ah no no meno ma vai lo rianimo io ce la vai la dentro è scon seek il da membro no ce la faccio tra raga trafotto dobbiamo cominciare ad accendere sempre la trago vieni fabb non sulle scale raga dentro la camera dentro la camera dentro vami non ci vediamo vami Siamo tutti dei grandissimi cicciosi, non lo usciamo nel ca... Siamo troppo lardoni! Troppo lardo! Troppo lardo! Troppo lardo! Troppo lardo, l'ho detto sempre eh! Parate ragazzi, parate! Io mi metto qua così! Guarda Shock! Ciao Shock ti son sopra! Shock vado a prendermi le FG se non so... Guarda che vede questa scena, guarda, tutto sposto qua, 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 vedi? Ma non si capisce che cosa sta, cioè... E' terribile! E poi vede tutto con la scala... C'è quando ho fatto il cavolo di Dash e le prendo il corpo pulito? Eh, mi sape, non mi sape. Come fanno a prendere tutte quelle magliette in un autobus? Eh, io c'ho la trappola qua, così l'infredd, vediamo? Che lì, le zombie tante chiude! Vabbè, non è fatto tutto, però... Eh, ragazzi, Shock... Andiamo, 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 andiamo. Che città che io hoja! Perché s'ho venuto solo! Zambi in chiude! Eh, vereno, tanto Shock, che vengono comunque di lare! Arrivo! Eh, sta bene, non mi avvicinate a quella bocca perché vorrei rimanere con il mio. Ah, potresti rimanere più! Oh, sono ciccione, non riesco a passare! Franco, ma quanto... Quanti chili pesi, Franco! mi piace salsa eh 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 dicono tutti cosi poi ci deludono esatto gioco puoi andare oh toglietevi gibboni come perchè non gibboni non prendono a te tescale raga io metto qua stesso vedete se mi prendono guarda io mi prendo le amo dell'fg ah no non ho vero un attimo che mi sta salendo sopra eh non mi farò qualcosa che non deve farlo beh infatti ho una specie dettagli dettagli ma siamo troppo forti o cosa eh no ma io non so cosa quando arriverai a round 16 vediamo che vediamo se dirà sempre la stessa cosa regatta però veramente devo andare a round 17 devono stare intendo nella camera eh Franco adesso mi fa paura eh 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 comunque io per arrivare a round 19 persone abbiamo assistito di mazione alla trappola di sotto e allora andiamo ad aprire quando andremo a rivedere no ma se adesso adesso ce la facciamo dico dal prossimo dal prossimo ascettami su tu eh aspetta aspetta non posso stiamo uccidendo tutti non riesco a trovare la partita ma non puoi trovarla stiamo giocando ma non puoi trovarla stiamo giocando ma non puoi trovarla stiamo giocando in questo momento vabbè quello si beh l'importante è che ci siamo incontrati con te meno male ci siamo incontrati con te almeno levatevi levatevi e poi perché lo incontriamo sull'inglese quando mai la trovavo in italiano eh vabbè io non ho considera che in italiano in italiano lo trovai tipo a settembre ah voglio fare tipo Rambo posso fare Rambo? no ma che puoi fa? Rambo lasciamo stare Rambo Rambo vabbè vabbè in inglese ma guarda shock shock camper perchè non posso? eh eh mi vanno mi vanno eh mi vanno divertimento yeee ma guarda che massacro e ci sono così fu fizzata per i a terra non so che se ci sono qui ci sono qui ci sono qui a te ci sono qui buon ma ma mia eh è ecco il treno stiamo su ste scale shock cosa ti ho appena fatto oh che ma che sei piangato a dosso non stiamo su ste stramaldette scale cosa ti ho appena fatto a comprare la speedcola spostati fatemi andare a prendere a shock ciccione tanto crepi tanto crepi tanto crepi avevo gioco 13.000 perchè la speedcola è troppo lontano sto salendo le scuole mi si vede un ciccione che sale le scuole sono io oh raga nella stanza nella stanza nella stanza ricarico un po più veloce dico eh ma guarda è la speedcola non ci sono non ti preoccupare dai fab non stare sulle scuole dai io vedo il cadavere lì che rimango di cadavere ehi è un contatto che voleva ammazzare vai a prendere tu veloce non ce l'ho l'ho preso ma quali zombie non ti fanno niente perchè comunque la migrazione è logica perchè un soldato super dopato con un'arma in mano dovrebbe morire a due schiazzi di zombie non la resta a ci voce questo video se stavamo registrato dovevo chiamare il video dei bug sulle stavola c'è una trappola che sta vicino a casa non stai distrando sto sto vabbè ragazzi vabbè ragazzi però speriamo che va tutto bene la lingua guarda su quanti punti ha mio dio vedi Gimbono invece che sta a fare il culattino vedi io no dice vedi io vedi io Non muorono, non muorono Non muorono Cioc ti può stare su? Oh no, non muorono Non ti staccano Non ti attaccano Non ti attaccano Non ti attaccano Non stavi a piantare quello Non stavi a piantare Cioè, ma dai Tocchi in Kenny per favore Che se non ho toccato Che ci ha fatto Che è rimasto nella nostra macchina Mi piace un casino Papo vai andando a me No, Franco, la vedo solo te La vedo solo io Che succede? Ti va a salta acqua? Ma il mio cibo Si è tirata una sola Forse l'ho comprata io Ah, io gli stessi punti di prima Ho preso l'FG E quindi sono diminuiti Ma ho capito Cioè, queste scale si stanno pagando Peggio di una sicura Le zombie provano a prendermi Ma non mi colpiscono Perché ci sono qui in mezzo Vedete come li stanno prendendo A prendere il culo Prima o poi vinceranno Loro Che cazzo È bello Molto assicurante Però ci stiamo tempo di perdendo Aspetta Raga ma sta venendo Una voglia di fare il rampo qua Guarda Tipo sii Spagatuzza Mamma mia Cioè, più delle scale ragazzi non passano No, dai No, dai Forse Probabilmente adesso Adesso che l'hai detto Prato io Ce l'ho fatta Ho comprato le amore ragazzi Ce l'ho fatta Bravo Bravo Ragazzi Sì Ragazzi Sicuramente Comunque ci conviene stare due in questa stanza E due in questa No, Shock No, no Di pazienza Non si può stare Stanno due finestre E poi vengono dritti Oh, bello Shock vieni qua Shock Arriva un attimo Mentre i fili vedete con l'anticipo Perché vengono dritta le scarpe Shock 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 Abbassati Grazie È fatto Io continuo a fare i punti anche se mi sparo Ma fa fare i punti Non lo so che dire a lui No, 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 no No, no Copritemi, copritemi Scusi No, no Scusi Che è la granata Scusi No, a me non me la fa pelle Io c'ho te È una legata assurda Tipo connessione interrotta Tipo molto strano Tipo Oh, what the fuck ma c'è la lista che perciò ha tirato l'era l'altra mette tra lì cioè io ho fatto almeno ci sono di più che sono là per fare i sparatoi lassù guarda, guarda che oggi buona è come camper ma perchè? perchè se lo faccio è un discorso Fabio guarda le mie uccisioni quanto le ho fatte queste uccisioni ciocco, ciocco mi fai? ciocco ne ho fatto più io ciocco, come fai a fare i cosi tipo proseguite? andate avanti stucchi di stucchi non lo so è una cosa che ho fatto nel gioco andate avanti dobbiamo sperare 19 erano dobbiamo sperare 19 erano e dai adesso quante volte sei andato a terra? ero ci vuole chi vuole? io quando sono da terra ho fatto un contratto con gli zombi no? anche bastone anche bastone cioè lui se dovessi giocare a planks, zombies cioè gli zombis infatti guarda immagino infatti lui quando ha scaricato il gioco per il cellulare non gli chiedeva di salvare il giardino ma chiedeva di salvare il giardino ma chiedeva di salvare il giardino ma i giardino ma chiedeva dai sono i saluti si f Guillo prima le tagelete una bei ti rianimo ti rianimo scopri copri 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 oh mio dio che cosa sta succedendo? sparate sparate sto ricaricando copritemi sto ricaricando fare basta tu vai ma io ho già finito i colpi del G42 ma dai io ho finito i colpi di tutto di tutto non ho più colpi di nulla vai a prendere i cosiddetoli vai veloce ti copri ma no sciocca la fine del round la fine del round la fine del round no vai 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 ora vai ora no a fine del round vai 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 basta che spari moda moda secondo me è un tiro